giocatrici e giocatori bentornati su bpm qua tengo in mano un altro processore della serie avengers ovviamente ve li farò vedere tutti quanti pian pianino stanno arrivando oggi il turno del 10.850k la versione leggermente depotenziata del famosissimo 10.900k del 10.850k vi avevo già parlato in un altro video che vi metterò il link qui in basso prodotto in collaborazione con l'artista di murales tristan iton questo processore è identico al 10.850k la lettera a che differenzia è semplicemente posta ad indicare il modello avengers ovvero con la scatola dedicata agli eroi più potenti della terra questa cpu da 10 core e 20 thread è molto molto versatile e costa leggermente di meno del 10.900k come vi ho già detto troverete una recensione più approfondita qui in basso l'unica differenza grande che c'è con la controparte boxata normale è proprio questo artwork all'interno della confezione troverete solamente il processore un piccolo manuale di istruzione un certificato di autenticità nient'altro al dissipatore dovrete provvedere voi con una soluzione di terzi l'edizione stralimitata di questo processore 10.850k la trovate su bpm power a un prezzo di circa 443 euro vi invito a iscrivervi al canale youtube a mettere in piaccia la pagina facebook e il follow su instagram per non perdervi nessun aggiornamento e di questa settimana di aggiornamenti ne vedremo parecchi ciao e alla prossima